Pronti via, altro giro, altra corsa dei bus elettrici sulla strada parco dopo la toccata e fuga dei giorni scorsi con un unico mezzo. Cinque rampini alle E80 in dotazione di tua che è stato specificato andranno ad integrare i filobusveri e propri con elettrificazione in movimento, da qui la necessità di conservare i pali che arriveranno non prima di giugno dopo i lavori di adeguamento dell'ex tracciato ferroviario. Il combinato risposto di tutti gli ingressi elettrici, anche e soprattutto con l'utilizzo possibile della strada parco, creeranno una condizione per cui il traffico a Pescara cambierà volto. Un abbattimento importante di CO2 e un sistema di utilizzo per i cittadini di mezzi che consentiranno di risolvere il problema dei parcheggi e quant'altro. Quanto sarà tutto a regime, Presidente? Ci stiamo lavorando, come sappiamo questi mezzi arriveranno a metà dell'estate e quindi cercheremo sicuramente entro l'anno di creare una condizione complessiva per la quale Pescara diventa veramente una delle città green più importanti sicuramente in Abruzzo ma anche in Italia. Questi mezzi rappresentano in via sperimentale un prodotto sostitutivo in attesa che entrino i mezzi da 18 metri che sono quelli inquadrati del sistema filoviario per cui la qualificazione che avrà un impatto molto ridotto perché i mezzi marceranno in buona parte in via autonoma ricaricandosi durante il percorso è finalizzata alla partenza del sistema biartivere proprio. Altro aspetto, che ne sarà dei meravigliosi pini sul marciapiede lato mare della strada parco? Non sarà toccata nessuna pianta, anzi incentiveremo, faremo delle piantumazioni nuove, metteremo delle siepi nuove, lato mare dove sarà fatto l'allargamento dei marciapiedi, dove ci saranno le piante, rimarranno intatte, nessuno toccherà nulla, le piante non saranno toccate. Insomma per una spesa che si aggira sui 7 milioni di euro verranno garantiti tutti quegli interventi necessari per limitare l'impatto ambientale ed assicurare una mobilità, dicono, davvero sostenibile. E benché ci sia una parte di cittadinanza che da tempo lamenta l'introduzione di questi mezzi, ce n'è una larga parte, la stragrande maggioranza invece attende con ansia da tempo questo transito. che appunto risolverà sicuramente tanti problemi e al tempo stesso garantirà, insomma, anche da un punto di vista ambientale, un qualcosa di positivo perché ai mezzi tradizionali si sostituiranno dei mezzi elettrici e questo anche da un punto di vista dell'impatto ambientale risultará essere qualcosa di importante. Grazie. 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 Grazie.